Buongiorno, benvenuti a questo secondo appuntamento domenicale. Vi voglio dire che questo accento, che in realtà dovrebbe essere di 30 minuti, diventa un accentone e diventerà di 50, così, magicamente. La felicità è immensa. Quindi la formula è sempre la stessa. Io al cinquantesimo minuto non abbiatemene, cercherò, farò, cercherò, proverò a interrompere questo piccolo evento e però comincerei subito dicendo che noi siamo in streaming, cioè siamo in diretta e ci possiamo rivedere, potete rivedere questo appuntamento andando sul sito festivaletteratura.it e cliccando sull'evento dedicato a Marino Sinibaldi. Detto questo lascio subito il tempo a Marino, lo ringrazio e buon ascolto. Grazie a Maurizio Matrone e grazie a voi. Grazie soprattutto per il piccolo moto di consenso quando vi hanno annunciato che durava di più, in genere qualunque cosa duri di più provoca moti di ripulsa. Quindi vorrei però spiegare che l'eccezionale durata consentita dai gentili organizzatori del festival e di questo spazio è due dal fatto che non sarò da solo, anzi, ho chiesto aiuto ad amici e amiche per superare l'imbarazzo di presentarmi da solo, cosa che non sono abituato a fare, sono abituato a fare domande in genere ad altri e in più il libro è fatto di domande e risposte date da me per cui c'era un effettivo, credo anche proprio giustificato, imbarazzo mio a parlare da solo di un libro in cui ci sono io che parlo. Insomma una serie di pippe mentali, spero che in streaming non appaia questa formula venga alleggerita e cancellata che mi ha spinto a invitare degli amici a parlare di questo libro, quindi sarà organizzato forse in modo un po' diverso dal solito, anche grazie appunto all'estensione che abbiamo ottenuto, ci saranno tre persone che parleranno un po' del libro, 5-10 minuti, porranno delle domande, io proverò a rispondere, se rimarrà del tempo proverò a rispondere anche alle vostre e così avremo fatto un po' come ci pare anche in questo spazio molto predeterminato. I tre amici che ho invitato sono Giuseppe La Terza, che vorrei dire marginalmente per quello che mi riguarda l'editore del libro, in genere, no marginalmente perché lo so che è fastidioso ringraziare gli editori, gli editori, accade spesso nei libri di recente ed è un tic, un birignà un po', in questo caso penso di poter dire che il fatto che sia editore c'entra molto lateralmente, devo dire che Pepe La Terza del libro è stato uno degli ultimi con cui abbiamo parlato, cioè il libro era già pratico, io non ho mai parlato con lui del libro direttamente ed è stato uno degli ultimi a leggerlo, era praticamente già in stampa a posto dei problemi e delle correzioni che penso non siano state accolte per dire insomma il suo rapporto di editor di questo libro, ma è da tanti anni con le sue attività, a parte la casa editrice e in particolare il forum del libro, un interlocutore di molti dei discorsi che ci stanno qui dentro, quindi è un molto piacere che sia lui a cominciare l'intervento e a porre domande, poi ci sarà Susanna Tartaro che è la curatrice di Farenet, vale a dire la persona con la quale probabilmente ho trascorso più tempo della mia vita, a parte i reciproci compagni, cioè in senso io sono molto intimo del suo compagno, lei abbastanza, quindi insomma siamo in questo senso, e quindi c'entra molto naturalmente con tutte le cose del libro, perché con questo libro c'entra molto la radio, in particolare quella cosa per me meravigliosa, non so per voi che è stata a fare Farenet e poi Radio 3, e poi la persona che temo di più in questa mattinata si chiama Massimo Cirri, e devo dire a parte è una delle persone che ammiro di più, devo dirlo, nel mio lavoro e fuori il mio lavoro, anche in parte per il fatto che io non sento mai Caterpillar, perché va in onda, quindi è un'ammirazione cieca, quindi come l'amore è la migliore forma credo di ammirazione. Ora io vi lascio il microfono a voi, nell'ordine in cui vi ho presentato, e subito dopo dirò quello che è necessario dire. L'autore sta sempre in piedi, sì, è giusto. Buongiorno, benvenuti, noi eravamo sicuri che foste tanti, però in ogni caso è una cosa fantastica, devo dire, questi giorni pensavo che Mantua è veramente una esperienza collettiva straordinaria, perché nella varietà, ah beh, questa però ci vuole una foto, vorrei che non solo nei streaming, ma rimanesse nei libri. No, però potremmo anche fare... No, ti hanno trovato, se no potremmo fare chi parlava, vabbè. Prima hai detto che hai un rapporto intimo con Mauro Kovacic, poi lo prendi in braccio, diciamo che mi pare evidente, no? Non c'era bisogno di... e dicevo che in questi giorni, vedendo la varietà del programma, ieri con mia moglie giravamo tra Downton Abbey e la coltivazione delle rose, quindi la letteratura è un riferimento ormai molto ampio, ci chiedevamo cosa tenesse insieme le persone che vengono a Mantua, e questa è la prima cosa che volevo chiedere a Marino, secondo te cosa tiene insieme queste persone, cioè cosa ci tiene insieme tutti noi che siamo qua? Perché questo è uno dei temi, il libro è un libro politico, verrà fuori in maniera... cioè fare cultura è un giusto titolo, nel senso che la cultura è un atto politico, tutto il libro lo dimostra anche attraverso l'esperienza di Marino, che poi, voglio dire, credo voi ben conosciate, anche perché a Mantua è venuto tutti gli anni, con una qualità che ha fatto anche di Mantua quella che è, però appunto la prima domanda è questa, cosa, secondo te, cosa tieni insieme tutte le persone che sono qui oggi? Radio 2 salva Radio 3, guarda, è una domanda che... adesso funziona anche questo, Radio 2 salva il mondo, vabbè, mi fermo. Ciri è taumaturgico. Una domanda, guarda, tant'è che sarebbe molto bello, se una volta fosse possibile, far rispondere loro le ragioni per cui vengono qua, perché io penso che siano molto varie dietro la semplicità del fatto che andate, andiamo a un festival culturale, la cosa è diventata un'abitudine, semmai possiamo riflettere su questo, che non c'è più quell'elemento, queste cose del genere non esistevano nell'Italia di 15-20 anni fa, 30 anni fa, che appunto è un po' l'Italia della mia giovinezza, l'Italia da cui parte questo libro, che oggi ho visto che Filippo Laporta sul Sole 24, e dice che è un po' pure un mini romanzo, a me la cosa mi fa star male, perché ho un sacro rispetto della letteratura, non oserei mai vulnerarla, o nemmeno tanto gonfiarla ancora di più con un romanzo, però il tempo è molto importante in questo libro, le cose che sono accadute in questi anni sono molto importanti, ieri uno dei nostri ospiti, perché in questi anni l'ho anche chiesto un po' direttamente o indirettamente agli ospiti di Mantova, molti sorpresi, specie quelli che vengono dall'estero, e sono sorpresi pure perché vedono poi le copie dei libri che vendono in Italia, quindi fanno la differenza, non capiscono il mistero della folla che sta qua, c'è un elemento che io non sottovaluterei di incontro, proprio di incontrare non solo gli autori, come dicono tutti, questo è il posto dove noi, voi potete incontrare gli autori da vicino, ma anche incontrarsi tra di loro, cioè i lettori che si... ecco, la lettura è un'attività isolata, e nel libro rifletto su questo ambiguo isolamento, perché è un'attività effettivamente molto isolata, alla fine non è che si può leggere, insomma uno leggendo, anche nel posto più affollato e rumoroso si isola, crea una piccola bolla nella quale c'è lui il libro, e questo è l'elemento diciamo anche affascinante, però quest'elemento di isolamento, non so se perché tutti gli elementi di isolamento in questi anni appaiono di inferiorità, a un certo punto i lettori si sono stufati di essere così isolati, e questo lo vedo perché la Radio 3 è quello, Farnet è quello, una specie di incontro virtuale, e poi perché dentro Farnet arrivano notizie di gruppi di lettura, guardate lo sappiamo, stiamo parlando di, qualcuno dice nicchie, che è una delle parole che odio di più al mondo, di minoranze, ma questo non è importante in questo momento, è importante che anche la lettura sia diventata una delle attività per le quali si sta, non solo da soli a leggere un libro, ma anche posso dire come a un concerto rock, a un comizio politico, anche in piazza a vedere le facce degli altri lettori, ci sono molte ragioni diciamo per cui la gente viene qui, però una che mi colpisce sempre di più negli anni è questa. Allora, buongiorno a tutti, io sono contentissima di stare qui con voi e fare questa festa per il libro di Marino, soprattutto sono contenta che ci sia la terza, perché voi capite stare tra Cirri e Sinibaldi per me sarebbe stata una vita difficilissima poter semplicemente dire A. Allora, che cosa, quindi vado sull'alfabeto, ma non è vero, va. Allora, no, cosa dirvi, io mi attacco subito a quello che dice Marino sulla cosa di Filippo Laporta stamattina che dice che questo libro è anche un romanzo e mi piace parlarne seriamente, può essere anche un romanzo, questo non lo so, non sarei così d'accordo, in una cosa però è vera, che in questo libro si sente la voce di Marino, cioè volente o nolente, voi questo libro, se lo leggete, qualcuno qui sicuramente l'ha letto, ritroverete molte cose del metodo comunque di approccio anche alle cose, alla cultura, non solamente notazioni personali, ma proprio al metodo, ecco al metodo. Io conosco Marino da tanto tempo e posso dire che, testimoniare che prima di Jobs, è dotato di multitasking, cioè lui, secondo me l'ha inventato lui, ha forgiato tutta una serie di persone, ragazzi, redattori, e poi una Radio 3 che assomiglia anche a questo progetto, estremamente linkata con quello che succede, con quelle che sono le curiosità. È un libro dove curiosità, spunti, sono vivi, veramente, io direi alla terza che qui è l'editore, è il primo libro che si presterebbe a dei link interni, cioè se fosse possibile in un mondo ideale dove tutti siamo con i nostri book, dove è facile arrivare alla lettura, soprattutto attraverso la rete, è facile, economico, è possibile, questo è un libro come i pop-up, che diventa in 3D, ci sono pezzi di vita di Marino, c'è il suo modo di parlare, quindi la voce, come la voce della scrittura, la voce dei narratori, l'ho ritrovata, e mi ha fatto anche un po' impressione, è la prima volta che ne parliamo seriamente, se questo è il modo di parlarne, che Marino magari si aspettava, insomma un po' serio anche da parte mia, perché con Marino in realtà si parla d'altro, cioè la focalizzazione delle cose è sempre marginale, questa è una cosa che è naturalmente molto interessante, in questo libro è evidente, cioè per momenti cruciali, importanti nella nostra storia, alcuni anni, sono raccontati con, non tanto con serenità e ottimismo, come è stato anche detto da altri, ma sono raccontati in modo sorridente, ecco direi così, sorridente. Una cosa che volevo chiedergli, altrimenti poi mi strilla, domanda, 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 è questa, visto che parliamo di numeri, visto che si parla di condivisione, che la festa di Mantova, perché questa è una festa, insomma una festa di Mantova, ci fa riconoscere, chiedo a Marino di andare subito a uno delle cose, forse al punto che riguarda un po' me, me, insomma, noi che lavoriamo alla radio, cioè la crisi della mediazione, la crisi del mediatore. Sinibaldi a un certo punto nel suo libro dice, ma in questo momento dove tutto è linkabile, dove noi arriviamo a alcune occorrenze di Google senza domanda, perché noi clicchiamo il contenuto, cioè se io cerco Taverna del Duca, dove sta a Mantova, metto Taverna, Ristorante, Mantova, arriva, e non dove è la strada. Ecco, questo fatto di non mettere più punti di domanda suggella la crisi di chi ti porta a farti delle domande, e quindi anche di chi alla radio o nei festival in qualità di mediatore culturale pone domande. Marino, che dobbiamo fare? Eh? Sono stata troppo fredda? No, no, chiarissima, sì. Infatti è il cuore del libro, secondo me, della mia esperienza. Intanto è vero che non parliamo mai sul serio di Susanna, quindi lo ringrazio. Mi dispiace che ha sentito la mia voce, secondo me è un problema suo che sente sempre la mia voce, non è che si sente la mia voce nel libro, per cui secondo me vive sotto questo incubo, per cui ha aperto questo libro e quindi mi scuso di averla occupata anche nelle ore in cui non ci siamo visti e lei leggeva il libro. Però, sì, questa cosa della mediazione secondo me è un po' fondamentale, è una cosa un po' strana che è accaduto in questi anni e che mi riguarda molto da vicino. Detto proprio semplicemente e chiedendo anche a voi diciamo che ne pensate, se è la vostra impressione e forse anche Pepe è un'altra delle spiegazioni di quello che accade un po' nei festival, no? Diciamo che io penso che sono cresciuto senza fare appunto romanzo tantomeno di Kenziano in una situazione diciamo di povertà culturale come era forse però pure non così raro nell'Italia negli anni 50 e 60 di povertà diciamo un po' materiale un po' soprattutto culturale e sapevo che c'erano e vivevo avevo per ragioni inesplicabili che hanno a che fare con molto desiderio di alcuni prodotti soprattutto la cultura i libri l'informazione la musica ecco tutti questi beni quando ero ragazzo cioè non mille anni fa erano dominati da dei mediatori diciamo io mi sono sempre immaginato la figura proprio fisica di uno che domina una stradina un vicolo un cunicolo dove si accede a un bene la musica era questa la mia impressione da ragazzo per sapere che libri c'erano c'erano le terze pagine dei giornali che poi c'era quasi solo pochi giornali non c'era manco Repubblica quando ero proprio giovane quindi insomma ancora più diciamo povero qualche rivista il terzo programma radio che ho sentito molto nella vita prima di lavorarci per la musica c'erano i dischi per esempio ecco la storia la racconta bene Nicola Piovani Nicola Piovani che è cresciuto in un quartiere vicino al mio insomma lui dice io non avevo musica in famiglia per sentire la musica sentivo il terzo programma registrava col registratore geloso che ha il fantaggio di avere due facciate e ha vinto il premio Oscar ha ascoltato il terzo programma e ha vinto il premio Oscar questa è una lezione per tutti voi non è rara credo tra gli ascoltatori di Radio 3 ecco c'erano queste strade e i mediatori diciamo quelli che fanno il mestiere che facciamo un po' noi adesso prima erano quelli che dominavano questi accessi erano un po' come quella cosa di Troisi e Benigni un fiorino tu passavi là pagavi il fiorino di accedere ora cosa succede oggi quando voi avete la possibilità di accedere a questo prendiamo la musica proprio che è il più poi la musica classica pure uno c'ha rimane il terzo programma ma c'ha su internet tutto magari di cattiva qualità che non sai che sentito ma tutto c'hai canali satellitari c'hai collane economiche c'è stata adesso ormai manco si usano più Naxos si chiamava bellissime collane economiche low cost insomma di CD c'hai un accesso ai concerti che è più diretto non abbiamo più quel timore reverenziale che c'era un tempo per la sala da concerto a Roma c'è una rivoluzione in questo campo determinata dal parco della musica all'auditorium che è un posto lo dico in senso ovviamente positivo quasi anonimo non è la sala di concerti dove nessun mio progenitore un antenato avrebbe mai usato Varca era un posto abbastanza anonimo in cui ci stanno pure il mercatino degli agricoltori ci stanno libri come quindi cose di tutti i tipi e c'è il concerto di Sant'Esta quindi sono cadute tutte queste barriere per ragioni tecniche e culturali appunto Susanna diceva basta cliccare una cosa arriviamo arrivate da allora che fine fanno questi mediatori confesso che il campo dei mediatori che alla fine è il mestiere che ho cominciato a fare in gran parte si è ribellato alla mia tesi di questo libro che dei mediatori non avete più bisogno e che quindi la cosa di cui guardate la politica guardate il commercio no 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 Amazon Catenes che supera non solo gli editori lasciamo stare i commercianti la politica si nutre ormai del sogno o dell'illusione della democrazia diretta sono tutte cose ambigue non so però sono cose che trionferanno allora che fine fanno quelli che prima campavano col fiorino che voi versavate stanno ancora lì è come se governassero ancora come il brigante ghino di tacco questo passaggio mentre voi entrate dalle spalle sopra da vertuto e andate a prendere l'informazione ecco secondo me il discorso che anche qui ha fatto Jeremy Rifkin sul fatto che passiamo dall'età del possesso all'età dell'accesso per l'informazione soprattutto è vero per la cultura così così per il resto ancora no speriamo che ma temo che lì i mediatori negli altri campi si difendono molto meglio però nel campo della cultura dell'informazione è successo questo e noi lo misuriamo Susanna cioè il livello di informazione dei nostri ascoltatori è molto maggiore di autoinformazione quindi cambia molto il nostro secondo me è una bellissima sfida naturalmente toglie quell'elemento diciamo garantito parassitario diciamo pure del tuo ruolo a me sembra che per esempio questo del connettere del legare cose sia un ruolo che ancora ci resta perché ognuno di noi accede a questi beni attraverso la stradina che si è creato a me per esempio piace molto l'idea che noi che facciamo sto lavoro speciala radio connettiamo cose leghiamo impediamo che venga schiacciato su un'unica direzione un'unica poi per me connettere insomma è la principale penso di essere pochissimo creativo e penso che di creazioni ce ne sono talmente tante che appunto anche lì si tratta invece di connetter di farle conoscere di allargare di far vedere quello che è poco osservato di allargare le strade con cui accediamo alle cose però questo sta cambiando completamente il nostro lavoro ecco diciamo la mia differenza questo non è un libro ottimista come ha detto qualcuno perché diciamo che sarebbe un libro progressista nelle intenzioni cioè vorrebbe vedere elementi di progresso se ci stanno però in questo campo io penso che sia un elemento di progresso il fatto che ridiamo a tutti la possibilità di accedere a tanti è comunque un elemento di progresso e secondo me cambia meglio anche il nostro ruolo gli toglie un po' di autorità parola che non amo è inutile confessare bisogna confessare le proprie direzioni ma gli dà una grande responsabilità che è quella diciamo di arricchire quello che già avete e che per la prima volta nella storia questo mi sembra sottovalutiamo è oggi disponibile sto rimandando il momento di ascoltare Cirri come è evidente sarò breve sarò breve e dico del mio piacere di essere qui piacere personale ma ce ne freghiamo e se mi permetti piacere intellettuale supposto e non appurato pensavo che fossi in grado di nutrire di avere senti cose intellettuale credo di avercelo credo di avercelo no dico piacere intellettuale perché come dire siamo abituati o molti di noi soffrono che a volte c'è un oiato una scissione fra l'identità delle cose noi siamo qui in una bella piazza in un bel posto di bellezza la cultura a che fare molto con la bellezza poi ne parliamo di bellezza intelligenza e parliamo di cultura con Marino Sinibaldi voglio dire è come Marino Sinibaldi sta alla cultura come Giovanni Rana e Tortellini cioè è un binomio strettissimo come Aldo Capitini alla pace insomma come Roberto Formigoni alle vacanze pagate da qualcun altro e quindi è un momento meraviglioso perché abituati purtroppo a soffrire una come dire una dilazione noiato un allungamento troppo uno sfilacciamento tutto rappresenta un'integrità e quindi ho due domande la prima molto breve un po' personale ma nello spirito di di un millimetro in là poi giriamo le scene di porno capite che uno parla l'altro lo fotografa è persa ogni dimensione di relazione perché è cultura dell'immagine vabbè Sinibaldi degrada intellettualmente Cirri la prima domanda è un po' personale ma nel libro c'è un pezzo della tua storia in questo c'è un pezzo di romanzo io mi sono identificato molto ho visto molte connessioni comuni io credo di essere stato il primo in famiglia aver portato un libro banale profonda campagna toscana nessuna lacerazione nessuno è mai emigrato da lì però pochissima cultura insomma e quindi la prima domanda è che cosa avresti fatto come ti saresti immaginato se non facevi questo l'operatore culturale cosa avresti fatto nella vita seconda domanda seconda questione ti faccio una critica tu ci dedichi un pochino troppo poco spazio a un certo punto nella prima parte del libro dici e cito a memoria noi come corpo sociale ma come dimensioni individuali diamo troppo spazio all'economia si potrebbe disegnare un mondo in cui soddisfatti un po' gli elementi di base sicurezza al futuro c'è molto più spazio alla cultura a me è venuto di tradurlo così brutalmente reddito di cittadinanza e poi libri concerti musei a randello perché ne hai parlato così poco perché non l'hai fatto diventare mi è sembrato il più grande programma politico mai sentito da un uomo vicino al PD perché non l'hai non l'hai fatto diventare ecco dici qualcosa di più su questa novità della cosa e poi che cosa avresti fatto se non facevi questo non lo so io ho fatto altro in senso io ho fatto per 22 anni il bibliotecario che era un mestiere non so se era da operatore culturale insomma una via di mezzo anche perché nasceva per fare quello che facevano tutti quando ero ragazzo se non avevano particolare che è l'impiegato statale io sono un prodotto dello stato sociale cioè sono cresciuto con la scuola pubblica la sanità pubblica salvato più o meno come tutti sanità pubblica sono cresciuto in case popolari dove non si paga l'affitto con le porte di studio e trovo che sono beneficiato dello stato sociale sono l'obiettivo di molte delle campagne di ristrutturazione della nostra società di questi anni ma ormai insomma me la so cavata quindi avrei fatto quello là avrei fatto un lavoro che appunto magari con la cultura aveva a che fare come appunto il biblioteco però poi è un lavoro diciamo per la sua struttura penso insomma poi non lo so dunque la cosa dell'economia sì lì mi sono parlato poco perché mi vergogno a dire che è di economia perché mi rendo conto che sembra che infierisco a partire dalla minima sicurezza che ti dà fare un lavoro nell'azienda e quindi anche insomma un po' così un po' di responsabilità e quindi tra virgolette potrebbe sembrare di successo quindi non mandava di dire perché nel libro si diceva sì da troppa importanza all'economia allora intanto dovete sapere che questo libro è un dialogo io credo molto nella qualità dei dialoghi della conversazione non è un libro infatti alla fine si dice pure delle cose sul fatto che l'avrei voluto intitolare questo non è un libro ma avevo paura delle reazioni dell'editore però è una conversazione io credo nella superiorità della parola orale su quella scritta va detto qui nel tempio della cultura scritta ma invece no perché il festival e lo faccio ovviamente perché il mio lavoro è un lavoro che ha a che fare molto però credo che nella comunicazione e nella conversazione sia tutto generato dalla conversazione cioè dall'interlocutore ma perché mi piace la conversazione perché la conversazione uno può pure cambiare idea i libri sono lì sono bellissimi ma sono fermi come dicevano già ai tempi dell'invenzione della scrittura quindi nella Grecia classica anzi i greci dicevano che era stato inventato dai faraoni e tutto questo dibattito riportato da da Platone è un dibattito che viene retrodatato all'epoca dei faraoni i libri avevano un problema che ogni volta che la privi dava sempre la stessa risposta bellissimo non è proprio così per esempio Don Quixote ogni volta il labio è diverso però è interessante questo aspetto a me piace molto la conversazione dico tutta questa cosa sulla conversazione perché questo libro è una conversazione in molta parte determinata anche dall'interlocutore che si chiama Giorgio Zanchini è un bravissimo mio collaboratore fino a poco tempo fa ora sta a Radio 1 infatti questo libro nasce dal fatto che dentro Radio 3 tutti noi parliamo diciamo che a Radio 3 incidentalmente si fanno delle trasmissioni radiofoniche ma gran parte della cosa è che stanno tutti lì e parlano comprese Susanna che voi la voce non la sentite ma noi tantissimo diciamo quindi è molto fatto anche nel confronto con un interlocutore il quale Giorgio Zanchini essendo un po' più giovane un po' più perbene un po' più moderato un po' più economicista di me mi andava di scandalizzarlo per cui quella frase che diamo troppa importanza l'economia è detta così un po' perché era fatta perché lui rompe le scatole con i liberali inglesi con i tassi di crescita e un po' perché è detta e quindi è detta un po' è un po' perché non mi andava in un momento un po' di crisi economica di mettermi all'idio di guardare però io penso che l'economia non sia così importante come pensiamo penso che se la guardiamo in un arco di tempo più lungo e fare un libro ecco questo significa che comunque te ti metti a riflettere dalle cose no? specie noi che facciamo loro tutti i giorni tutti i giorni andiamo in onda ti metti a riflettere su un periodo più lungo noi abbiamo raggiunto dei risultati economici inimmaginabili nella storia ecco posso dirlo senza fare l'arrogante questo anziché liberare molti spazi per altri aspetti della vita che sono il piacere ovviamente Cirri ha quest'idea limitata del piacere o meglio fa finta per con piacere un pubblico colto che per lui il piacere sia andare per mostre in realtà ha delle idee più cioè il piacere è fatto di tante cose noi lo praticamente ma pochissimo cioè io penso che se i nostri antenati avessero immaginato come noi abbiamo trasformato le forme del lavoro e della società cioè quanto tempo abbiamo liberato dalla riproduzione sarebbero stupefatti dal modo diciamo pure sciocco con cui sembriamo e io questo ho tentato di dire senza fare l'arrogante io penso che noi dovremmo sì la mia società ideale è quella delle mostre a randello come dici non so che vuol dire randello come sia un toscanista beh sì ma non solo conversazioni stare al bar parlare leggere libri e parlare con qualcun altro ecco rispetto se uno guarda la storia dell'umanità un po' per gioco ma un po' per sfida un po' per simulazione è curioso veramente non voglio fare colto ma Ann Arendt l'aveva detto alla fine degli anni 50 Ann Arendt diceva noi libereremo è fatto così male il mondo è così crudele la storia questo lo dico io non Ann Arendt le diceva una cosa bellissima noi libereremo tempo libero quando non sapremo più che farne cioè quando avremo perso lei aveva molta ammirazione per il modo in cui gli aristocratici cioè la società colta usava il tempo libero quando avremo perso le capacità di riempirlo davvero secondo me un po' è successo poi è successa una cosa secondo me veramente fatale nella nostra vita che si chiama televisione che secondo me è una cosa dagli effetti anche in senso enormi proprio una delle cose più importanti della storia umana è questo strumento questo linguaggio il tempo che occupa lo spazio che ha l'importanza che ha e lo dico senza arroganza anche perché come sa Cirri mantiene tutti noi la televisione italiana anche noi che ci divertiamo a fare radio ecco però il tempo poi alla fine lo spazio lo spazio mentale l'elemento dell'apprendimento dello spettacolo del divertimento si è in grandissima parte almeno fino adesso concentrato in quello in quello spazio lì io mi alzo perché ci sono alcuni che stanno in fondo e anche loro potrebbero comprare il libro quindi è giusto parlare con tutti io ho un dubbio per non dire di più sul tema dei mediatori ho un dubbio anche a dire del mio dubbio perché diciamo potrebbe sembrare una difesa ufficio però fine dei mediatori ma intanto mi chiedo perché tanti personaggi televisivi vogliono fare il libro lo vogliono presentare a Mantova e quindi in qualche modo anche loro tengono a una mediazione secondo qui c'è Gino Roncaglia da qualche parte che ha scritto i bellissimi libri su internet a cui vorrei girare la domanda cos'è Google? Non è un mediatore? Cos'è Amazon? Non è un mediatore? Allora forse bisogna dire cambiano i mediatori anche per colpa dei mediatori tradizionali anche delle case editrici diciamo è anche un'autocritica che forse negli ultimi anni hanno scelto di non solo ascoltare il mercato che è sacrosanto ma di rincorrerlo per l'appunto facendo libri purché l'autore sia noto e questo naturalmente non gli aiuta molto dal punto di vista di voi di lettori che se vengono qui hanno una quindi primo punto la domanda a Marino è non è che forse sono più cambiati e dobbiamo riconoscerli e dobbiamo conoscere la loro mediazione conoscerla cioè sapere cosa vuol dire mettere la parola che diceva Susanna su Google non è un meccanismo automatico guardate che appena uno entra sulla rete cominciano a arrivare ti telefonate mail di gente che ti propone di salire nel ranking pagando quindi è un'attività commerciale con criteri commerciali che non è affatto automatico non c'è un algoritmo neutrale mi chiedo poi Marino una domanda forse che non dovremmo porci perché è più da porre a qualche filo ma la mediazione è una possibilità o una necessità cioè noi ci svegliamo la mattina abbiamo un tempo della giornata e scegliamo scegliamo come impiegare questo tema il tema è quanto ne siamo consapevoli cioè quanto queste scelte che facciamo inevitabilmente siano scelte pensate ed è per questo scusate anche qui la banalità che tu insisti tanto nel libro sul fatto che cultura è libertà cultura è libertà per questo motivo perché le mie scelte sono più consapevoli non lo so che ne dici molto importante questo che dicevo allora effettivamente effettivamente poche cose nella storia umana hanno avuto il potere che ha Google che sta prendendo Google probabilmente a parte la televisione adesso non ne parlo però ha un potere che nella storia umana non c'è mai stato di dare molte cose anche belle perché la televisione è piena di cose poi interessanti lì posso dire solo questo che secondo me ci pensavo però l'altro giorno perché io mentre facciamo le trasmissioni infortuna quando appunto sentivo Rifkin che è uno molto interessante nella sua cosa che ogni tre anni cambia completamente e te non fai mai in tempo a dire ma scusa quello che dice nell'altro libro si è realizzato o no la genialità sua è che ogni tre anni fa un libro che ha 400 pagine e ti scordi quello prima poi dopo dice ma lei non diceva che finiva il lavoro e saremmo stati tutti appunto a Randello a vedere le mostre come dice Cirri non gliel'ho potuto fare come ha detto ma Cirri chi ha dice Rifkin la cosa è vera ma guardate che secondo me tra le fortune di questo tempo una fortuna ammetto in questo caso puramente intellettuale cioè che noi stiamo vedendo una io non so io ero sempre rimasto colpito questo prima di Rifkin però è un test fondamentale del suo del suo libro e anche di un'esperienza recente che ho fatto in Sardegna per cui ho commentato Rifkin con un poeta popolare sardo e lì la trasmissione è andata in vacca perché Rifkin l'interprete non sapeva come tradurre il poeta sardo che però è questa che tutto comincia quello che noi la società attuale diciamo il capitalismo con questo fatto che qualcuno ha cominciato a chiudere le terre le enclosures si chiamavano in Inghilterra e le prime pagine del capitale di Karl Marx che Cirri mi legge sempre la mattina e comincia con questo fatto che qualcuno ha cominciato a chiudere terre in Italia tutto questo è successo molto tardi appunto in Sardegna dove ho fatto questa cosa nel 1820 quando arrivano i piemontesi e permettono di fare le chiudende e quelle cose bellissime che sono i muretti a secco sardi che sono in realtà il segno che qualcuno con una afferra afferra come diceva il poeta Melchiorre Mureo che era cieco ma a cui raccontavano questa cosa pensate che bello cominciava a chiudere tutto così è cominciato tutto con uno spazio pubblico i pascoli nel caso sardo che vengono chiusi la teco oppure il russo quando dice il primo che ha detto è mio è mio allora questo spettacolo il poeta sardo commenta sisuchelo fit in terra l'amiant serrado puro se il cielo fosse in terra l'avrebbero pure esso recintato questo è accaduto noi non lo sappiamo ci sembra normale cioè la privatizzazione del mondo è accaduta e non è che è preistorica è accaduta e accade ora in internet noi stiamo assistendo esattamente a questo cioè internet è un campo libero dove stanno creando dei muri il muro di amazon che è un muro io ho un kinder sto lì dentro non riesco a uscire da amazon infatti ho smesso persino perché non sa i muri cioè internet è proprio un campo in cui c'è vistosamente il terreno aperto e la libertà nostra e muri che stanno diciamo limitando la nostra libertà naturalmente la nostra libertà noi la limitiamo volontariamente bisogna dirlo volontariamente non è che è obbligatorio usare google e prendere la prima occorrenza di google o la seconda che è quella di cui Pepe denuncia insomma l'artificialità no non è obbligatorio però lo facciamo lì noi stiamo vedendo proprio un processo di enclosure cioè di chiusura di un terreno con tempera comune che sta modificando il nostro comportamento diciamo volontariamente adesso qui bisognerebbe riflettere su che significa volontariamente in un'epoca di pressione però è così io racconto c'è un pensatore americano molto interessante che si chiama il geni Morozov lui è un certo che ora è molto pessimista sulla rete lui cantava della rete la possibilità di diventare flanere sapete che sono i flanere sono quei passeggiatori benjamin ha fatto un monumento letterario perché benjamin scopriva gli raccontava che questi grandi magazzini francesi passaggi questi corridoi pieni di merci in realtà capiva la gente ci andava per fare il flanere cioè per passeggiare e anche un po' perdere tempo e guardare non solo per comprare anzi comprare era una funzione secondaria così è la rete la rete è il paradiso del flanere io essendo veramente purtroppo perché è una cosa che mi fa perdere moltissimo tempo diciamo caratterialmente un onnivoro flanere cioè che passeggerai tutto il tempo arandello con questa formula che ormai mi sembra bellissima io agli primi tempi di inter forse lo raccomando perché non mi ricordo quanta parte delle conversazioni mi ricordo ho visitato un museo di Philadelphia che ne manco sapevo che esisteva ma a un certo punto nella prima notte vera che mi ricordo che ho capito la rete nella sua mi ricordo sono entrato dentro un museo sapete quelle cose che si cominciavano a fare che tu il museo lo giravi tutto quelle prime cose che sembravano fantastiche la rete è fatta è uno spazio di libertà perché è uno spazio di disponibilità illimitata che nessuna generazione ha mai avuto di fronte eppure noi stiamo assistendo proprio in rete e quindi per me è lo spazio dove i mediatori e il loro potere la parola più odiata di questo libro e della mia vita sarebbe ridotto al minimo perché naturalmente allora da un lato è vero e dobbiamo riflettere io devo limitare il mio spontaneismo che è la mia visione che poi alla fine uno ha bisogno di qualcuno che ti guì qualche riferimento qualche scelta qualche determinazione e questo vabbè è un problema psicologico sociale che capisco che sottovaluto ma c'è c'è nel testo bisogno ma a me quello che mi interessa di più è lo scontro è veramente lo scontro di classe nella rete questo che sta accadendo tra la nostra libertà e la loro intenzione di recintare e quindi rendere commercialmente redditizio perché si tratta di quello uno spazio che è stato creato comune Tim Berners-Lee che ha inventato il web non l'ha brevettato secondo me è una delle storie più incredibili del nostro tempo cioè questo che ha permesso di diventare no ricchi straricchi decine di persone nella Silicon Valley lui lavorava al CERN il CERN di Ginevra quindi in un luogo pubblico siccome era pagato diciamo dal pubblico lui non ha brevettato il linguaggio il www non l'ha brevettato e ha permesso di usarlo a noi e a quei bastardi della Silicon Valley non è uguale è lo stesso loro stanno recintando il mondo noi lo stiamo accettando e questo è un po' naturalmente questo è lo spazio vempio della politica questo libro non so se è un libro politico comunque la politica non c'è non so a Ciri come fa a intuire le mie predilezioni politiche e soprattutto a violare il segreto della mia urna elettorale ma ma la politica comincia da dove finisce questo libro che parla delle persone della responsabilità che ognuno di noi ha e della libertà e quindi responsabilità per me che ognuno di noi ha poi c'è un campo questo delle grandi politiche della rete che è il vero campo della politica oggi che è molto difficile perché è un campo sovranazionale perché non si può affrontare paese per paese però è decisivo è quello che precostituirà la libertà del nostro futuro quando dicevo che Marino Sinibaldi è multitasking esattamente questo nel senso che come la voce del libro apre dei mondi anche nel rispondere alle domande ci sono tante cose e tante cose da riguardare io avevo pensato e mi ero anche immaginata di raccontarvi un po' come era strutturato questo libro secondo questo pensiero così sempre in evoluzione però in realtà mi veniva in mente una cosa proprio osservando Sinibaldi e Cirri che non avrebbero mai fatto secondo me fino a due o tre anni fa una presentazione secondo le loro corde è serio non seria con fotografandosi allora ma questo vuol dire una persona per bene l'ha fatto lui però ti sei prestato al gioco ma beh insomma sei stato costretto sottovoce mi stai dicendo me la mandi me la mandi esatto allora io torno invece a parlare seriamente sul ruolo della mediazione di quello che noi in realtà soffriamo dalla rete allora crisi del mediatore o non crisi del mediatore e come è successo adesso e come avete visto il fatto di fotografarsi come comunque ha fatto Sinibaldi mi fa pensare come poi in realtà è in crisi non solamente è in crisi può essere anche in crisi il mediatore non tanto perché il pubblico lo salta e va direttamente a quello che cerca ma forse perché il mediatore è ancora alla ricerca di un linguaggio talmente contratto e talmente fotografico e talmente immediato per raggiungere chiunque in questo modo così diffuso nella comunicazione e allora mi chiedo se intanto se Marino aveva qualcosa a dire su questo l'altra cosa che è molto legata al libro che è veramente un libro politico perché parla di cultura e perché la cultura è politica è un libro di partecipazione politica e partecipazione sulle cose ed è appunto un libro sulla comunicazione di cui Marino e Cirri in questo caso ma veramente anche la terza qui insomma conoscono bene le varie strategie ecco io chiedevo a Marino se secondo lui è possibile ed è una domanda veramente seria se è possibile se intravede una figura di qua da venire o comunque prossima che abbia in mano per esempio le sorti di un paese o che abbia in mano una insomma se vede possibile una classe sociale fatta di persone istruite nel senso etimologico del termine che non abbiano mai aperto un libro che non abbiano mai aperto il libro cioè no vabbè no no è questa la domanda no io l'altro sera posso dire una cosa scusami se ti interrompo volevo solo aggiungere che la cosa che dico naturalmente leggendo i giornali è evidente è stata fatta una piccola ricerca dove sei italiani su dieci in un anno non conoscono un libro e sono le cose su cui anche fare guarda di questo sì abbiamo parlato al mente tanto adesso no da questo punto di vista l'altra sera un lettore di questo libro posso dirlo perché anzi lui ne vorrebbe parlare pubblicamente che si chiama Francesco Gregori mi ha detto certo è proprio un libro dilaniato io non è che mi sentivo però effettivamente è un libro dilaniato in questo Susanna che è un libro non si riferiva a Bobbina 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 no dovete anche il pubblico però c'è come te no eh certo detto da De Gregori e lui no perché perché è un libro fatto da uno che deve tutto ai libri io penso veramente adesso veramente devo tutto ai libri la mia formazione la mia allegria, la mia capacità di capire pure il mio mestiere, pure lo stipendio tutto, è una cosa da sempre ho fatto il bibliotecario, quindi bomba, molto tempo e devo tutto ai libri che però capisce, e qui è il cuore drammatico, è che questo mondo sta finendo e per esempio uno è per tante ragioni ne parlano tanti e che noi dobbiamo vedere che se c'è un elemento di progresso in questa fine che per me è disastro, fine, crisi che per me è disastrosa, qui non vado avanti anche perché poi questo spazio se volete ne parliamo, ma in realtà ne parlo sempre, tutte le trasmissioni quello che collievo nell'ultimo accenno che facevi Susanna è che effettivamente uno degli spettacoli di questa cosa, uno degli esempi, è che io conosco persone colte attente, ricche capaci di intervenire sulle cose che non leggono libri, questo non è mancato una storia di umanità ne ho in mente uno che non vi nominerò naturalmente in partita, da tanti anni ne ho in mente uno, un mio amico caro una persona molto intelligente che secondo me non legge mai libri salvo della moglie questo è un indizio gravissimo no, no e no, ma nel senso che una vera ammirazione è questo staccate, ecco noi dovremmo riflettere su questo ora riflettere su questo è il posto meno indicato a fare sta cosa che siamo qui per i libri però ecco, posso dire io mi sento molto coinvolto perché penso di essere un testimone del fatto che, cioè se lo dico io insomma, se comincio a pensarlo io che si può costruire vuol dire che sta cambiando qualcosa perché veramente da questo punto di vista posso dire una frase mi fido di me stesso cioè mi fido di me stesso sono talmente legato ai libri ho la casa, tutta la mia vita tutti i miei spazi sono in piedi tutti i miei problemi derivano dai libri da mette a poca cioè capito sono proprio invaso fisicamente e moralmente biograficamente dai libri secondo me questo sta accadendo e noi dobbiamo un po' capire cosa sta come cambierà se saremo noi a vedere questo cambiamento ma insomma questo sta un po' accadendo ecco pure qui che è la parte ovviamente sulla quale l'eventuale ottimismo mio di questo libro è più in crisi noi dobbiamo vedere se c'è un elemento di progresso se c'è anche qui uno spazio che poi il progresso che vuol dire per me vuol dire abbastanza semplicemente allargare l'area della libertà individuale dell'uguaglianza collettiva se allarga queste aree tutto quello che è accaduto in questi anni può allargare queste aree con la cosa dei mediatori a me non è mi interessa dal punto di vista vostro cioè il nostro come consumatori cioè noi abbiamo un potere parola che non abbiamo anzi abbiamo una possibilità di far svaporare il potere evaporare il potere che non c'è mai stata perché il potere soprattutto per me soprattutto ovviamente mi ispira Don Milani a sapere le cose conoscere le cose il potere che noi abbiamo su di noi stessi in particolare la capacità che abbiamo di liberarci dal potere altrui questo è l'unico potere che concepisco il fatto che mi libero dal potere di altri deriva dal fatto che conosciamo il mondo sappiamo le cose abbiamo le parole la vecchia cosa della lettera una professoressa ecco questa possibilità non c'è mai stata come oggi questo è l'elemento decisivo di progresso io propongo mettere questo e fare tutto il resto compresi i dubbi le critiche lo spettacolo deprimente che abbiamo sotto gli occhi dopo al lato dire intanto questo lo penso soprattutto perché penso abbiamo pure un problema con le generazioni che arrivano e che io vedo segnate da un pessimismo da una chiusura a me questo libro l'ha ispirato molto delle cose che leggo e mi raccontano i maestri gli insegnanti in particolare un insegnante che è pure uno scrittore che si chiama Marco Lodoli che a Roma soprattutto nelle cronache romane quindi magari continua a scrivere cose desolanti sulla sua scuola su questi ragazzi talmente privi di futuro lui dice ormai non sognano nemmeno più quelle cose ritenute degradanti diventare veline diventare calciatori sono cose assolutamente poco degradanti e molto difficili io avrei molto volentieri fatto il calciatore ma non ci sono riuscito e ci rilavellina ma non ci è riuscito e non e non e non e non e non e Susanna ma Susanna lo fa a fare quando passa no che nemmeno più quelle cose sognano cioè a me mi è impressionato come non so c'è una possibilità di accedere a cose ecco a me mi sembrava rovesciando un po' certe letture più più diciamo che io poi in parte condivido più realistiche magari più pessimistiche che bisogna fare questo la mia generazione doveva fare un ultimo sforzo insomma doveva consegnare un'immagine del mondo diversa da quella che le generazioni successive rischiano rischiano di avere e mettere al centro sta libertà no 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 non chiudo no ti chiedo una battuta un po' centra accesso infinito alla alla conoscenza come mai nella storia dell'umanità crisi delle mediazioni tradizionali dei mediatori tu lo racconti molto bene crisi dei linguaggi la scrittura il libro come forma del linguaggio rappresentazione tu ne accenni è una delle possibilità delle capacità della radio sopravvivenza bellezza della dimensione orale c'è un pezzo di speranza è una cosa antropologica abbiamo bisogno che qualcuno ci racconti qualcosa di sentire una voce in sottofondo un'anelia un cantile qualcosa che ancora non c'è nella rete quindi io concluderei chiedendo un breve saggio l'oralità di Marino Sinibaldi rispondiamo guardate non rispondiamo non teoricamente ma praticamente oggi dalle 15 al 18 da piazza Leon Battista Alberti faremo una grande lezione di oralità e di questa cosa meravigliosa che per me è il linguaggio nostro cioè questo linguaggio meno potente di un tempo più insinuante più condiviso che mi sembra sia quello della radio grazie invece sono costretto a dire a fare il mediatore del tempo e a dire anche questa banalità che il tempo è tiranno però voglio dirvi che qui alla mia destra c'è un banchetto con i libri di Marino Sinibaldi che lui e anche gli altri se vogliono possono autografare e quindi è qui a disposizione grazie mille buona giornata buona domenica grazie